Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Sono Mati e Med E benvenuti in questo nuovo video Ragazzi stavo dicendo Sono fissato Comunque facciamo la terza Il terzo Terzo Gameplay Come sempre con Assassin's Creed Alla prossima Nell'ultima poi faremo un'altra serie Di Assassin's Creed Ma non di questa e di un'altra serie E sono però Nell'altra serie saranno tre Episodio Comunque ragazzi siamo qui al main menu No alla schermata di gioco Scusate Ok Scegliere Posso lasciare Ho fatto soltanto Dove rifare li a me Però che non ho fatto Se ce n'è tanto Tutto il rumore mi piace Ok continuiamo Continuiamo come sempre Sempre Questa Costantopoli Buona ragazzi E stiamo giocando A Costantopoli 1511 d.C E' zio Amico mio Stanno bloccando Le porte Fai Fretta Lanciati da questa corda E siamo sempre In questo punto Però Che noia Bella ragazzi Non ci fate caso ragazzi Ok Sopra Sopra Ok ragazzi Dobbiamo finire Questo livello Dobbiamo finire Ragazzi Non fate caso Niente Soltanto La flash wound E' morto Che cazzo Di nuovo Peggio di che Mario Ok Gli italiani Sono tutti Così Sono tutti Ti sono come Se è così Mi dispiace Per due nazioni vicine Ma Ho il cazzo Dove Ok Continuiamo Questo Cazzo Di episodio Devo finirlo Entra oggi Devo Basta Lui Che Cavolo Per me Poi Non è Consata Dove Voglio Una domanda Ragazzi Ma Sopra Una storia Vera Boh Ok Ok Non me ne fai Che niente Si è intrappolato Non è Dobbrio Ok Ok Salta No Ok Morto Lui Hangi a P Una buona compagno per invocare una scena quantico una scena lampeggia Dov'è? Ah questo qua Connor per me Come è stato il nostro per vedere? Per me è morto Comunque, quello è l'unico Ok bla bla Siamo libera tutto con lo schermo per continuare Ok I pari che mi dovranno nascondere a quelle stupide guardie non mi vedranno se mi nascondo tra questi moscanti Nasconditi scemo Si pare che mi hanno fatto di te Per me è pochina parla per quelle guardie Andiamo Ok Ok E' un palo ora molto Tommi, hai da detta giù? Chì, lei è detto strontzo? Ok. Vieni a Giulia? Vieni a Giulia? Vieni a Giulia, come Barbara? Vieni a Giulia? 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 Ragazzi, salviamo! Ho fatto un fail! Ho fatto un fail! Ho fatto un fail! Salto! Buona ragazzi, siamo tornati! Oh fuck! Un pochino, fuck! Ok. Ok, ce la farà! Ezzi, l'uditore non ce la fa! Ce la fa! L'abbiamo presa ancora un po' scosso! Ben fatto, amico mio! Io ci... Ci siamo quasi, seguimi! Ok, lo sapevo! L'altra parte... Sopra... L'altra parte... L'altra parte... L'altra parte... L'altra parte... L'altra parte... Cazzo ci devi fare con lui! Ok, ciao ciao ciao! Amico mio, ciao! Questa è una bella giornata stare con te! E' morto! E' morto! Ahahahah! 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 Ahiaia! Ho fatto un po' ridere! E poi quando... 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 Quando quello va imparato a Ezio... Lo dice... Ehm... Non lo so come si chiama di... Ciao amico! Dove hai fatto una bella? Perché liberare gli assassini? Ok, salta... Bye... Ok... si inizia sul quadro virtuale adesso è qua ok eccolo là e poi ti immagini tutta una massa di assassini l'ammazzo morto come dovevo fare muoviti saliamo salta salta ok salta qui e salta lì e salta lì e poi salta qui no 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 la nonna qui ok poi quando viene lo tramo a mozzor so chiù ma dico il cavallo è mio vecca mi è buttato sono stato abbandonato 8 minuti di video per fare questa missione perché ero morto come dovevo fare dai dai continua fermo non ti fermare è stronzo maledetto poi den poi den poi den ah capito ho capito il 100% non ho capito il 100% ma ce la posso far no aspetta ragazzi ragazzi siamo qua no non mi dire che devo ricominciare devo ricominciare ok ragazzi oi 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 no no di poca di poca di poca di poca perché si abbassano qui tutti in Italia si ragazzi abbiamo finito questa prima missione ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi commentate polliciati in su e noi ci vediamo in un prossimo video